Buonasera da Termoli e bentornati a Millibar. Continua il nostro viaggio in vista di questo approdo, le prossime elezioni regionali e continuiamo ad intervistare, ad avere come ospiti i nostri protagonisti. Questa sera è tornato a Millibar, lo ringrazio particolarmente, Massimo Romano di Coscienza Civica. Insieme a noi per la prima volta abbiamo anche un rappresentante del mondo sindacale, do il benvenuto particolarmente gradito, Franco Spina, segretario regionale organizzativo della CGL. Insieme a noi questa sera Antonio D'Ambrosio che ci aiuterà a dipanare la matassa regionale con le sue sempre acute osservazioni. Adesso ci guardiamo la copertina, ma è una copertina particolare. Per una volta non vedrete nessuno di questa regione, non vedrete frattura, non vedrete gli scioperi, non vedrete la sanità, non vedrete le fabbriche, ma vedrete qualcosa che ha a che fare con quello che stiamo vivendo in Molise. Il filmato è molto bello, un filmato d'epoca del 1977, dei Pink Floyd. Quell'anno uscì l'album Animals, ascolteremo anche una delle canzoni più famose, Pigs on wing, Porci con le ali, Porci che volano. E vedremo questo filmato realizzato alla Battersea Power Station, che è un meraviglioso esempio di architettura industriale. Una centrale elettrica ormai è dismessa e riattivata per altri scopi, quali mostre, concerti ed altre cose belle di questo tipo che sanno fare soltanto, purtroppo, all'estero, allorquando dismettono delle fabbriche e dei siti industriali. Ve la trovate, chi va a Londra, passando sulla destra dall'aeroporto di Itro fino alla stazione Vittoria, una costruzione che non potete non vedere da quanto è grossa e da quanto è bella. Comunque, bando alle chiacchiere, guardiamo la nostra scheda e poi ritorniamo in studio. Comunque, bando alle chiacchiere, guardiamo la nostra scopi, 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 guard maiali in volo è questo il titolo di una celeberrima canzone dei pink floyd tratta dall'album animals del 1977 maiale in volo tuttavia potrebbe essere anche il titolo di un cortometraggio dedicato al molise è ormai da tempo che si alzano in volo animali di tutte le specie che oscurano con le loro ombre sinistre l'intero territorio ogni giorno se ne leva in volo uno ed il cielo è ormai così fitto e popolato di strani esseri e mostruose creature che del molise non resta più niente coperto com'è da una gigantesca nube una impressionante cataratta che non lascia passare un filo di luce gli animali che volano metaforicamente sono quelli della mala politica espressione dalla quale potremmo anche eliminare l'aggettivo mala poiché è difficile immaginare che di politica ne esista una buona assistiamo oltre ad una devastazione quotidiana di ogni presidio di civiltà e dignità alla supponenza all'arroganza e alla esibizione costante di muscoli da parte del ceto di governo capo del bodybuilding regionale e senza ombra di dubbio il monarca assoluto del molise si reduce e conduca torri in contrastato paolo di laura frattura bersagli della sua ira funesta sono stati nella scorsa settimana l'ex assessore gianfranco vitaliano l'ex consigliere regionale massimo romano il sindacalista della cgl franco spina tutti e tre accusati del delitto di lesa maestà per aver criticato l'opera salvifica e redentrice del sire duce e conducator del molise i primi due hanno messo in risalto come la riduzione dell'irpef propagandata da frattura sia soltanto un artificio contabile pagato a caro prezzo dai cittadini mentre il secondo facendo il proprio mestiere ovvero il sindacalista ha detto chiaro e tondo che il presunto salvataggio della filiera vicola lo si è fatto sulla pelle dei lavoratori ai quali si è richiesto anche il sangue alle indubbie tragedie nelle quali il molise si dibatte dal lavoro alla sanità si aggiunge un atteggiamento degli uomini di governo che fa pugni col ruolo istituzionale anzi è proprio grazie a questo ruolo che chi comanda trova spazio tra gli organi di informazione e da buon gioco nel coprire di contumeli e chi si para davanti insomma sono animali che volano per dirla alla pink floyd e che scaricano a terra ogni ben di dio camuffato da fulmini guai a chi parla è questo l'avvertimento grazie a dio tuttavia come il maialino dei pink floyd anche gli animali che volano in molise sono pieni di aria e come quello dei pink floyd che venne spazzato via dal vento dall'inghilterra sino alla germania potrebbero essere dispersi da un ciclone elettorale bisogna solo aspettare che cambi il tempo il molise che oggi non esiste oscurato da animali e cataratte forse un giorno ritornerà bene questa era la nostra copertina giocata sui registri dell'ironia da una parte sulla buona musica ma anche sulla triste realtà la triste realtà di questa regione miserrima proprio è lo scarso senso delle istituzioni incarnato da parte di chi poi queste istituzioni le rappresenta è successo questo lo raccontavamo nella scheda qualcuno durante la settimana scorsa si è permesso di criticare alcune affermazioni del presidente della regione paolo di laura frattura due tra coloro che hanno criticato frattura li abbiamo qui ospiti stasera non c'è gianfranco vidaliano c'è massimo romano e c'è franco spina massimo romano allora partiamo da lei frattura la bacchettata per un suo intervento relativo alla presunta diminuzione dell'irpef in realtà le cose da come le racconta frattura sono incomplete perché questa irpef che si riduce facendo due conti i molisani la pagano a colpi di lacrime e sangue cerchiamo di fare luce perché queste cose che appaiono dei dettagli in realtà sono fondamentali attenzione si va verso la campagna elettorale l'informazione che ricevono i molisani spesso e volentieri quella che arriva dalle istituzioni non è informazione istituzionale è propaganda è un'altra cosa quindi massimo romano come stanno le cose innanzitutto io ti faccio i complimenti per questa copertina che oltre diciamo al contenuto è espressione di grande grandissima cultura musicale che diciamo non guasta anche per dare un po di colore a queste discussioni che sennò rischiano di essere troppo grigio in qualche modo non per responsabilità giornalistica ma per responsabilità degli argomenti che si trattano rispondo subito alla tua domanda frattura nella scorsa settimana ha inanellato due dichiarazioni su due questioni molto rilevanti che riguardano la politica sanitaria la prima entrambi spacciati per successo politico della sua azione amministrativa e politica la prima questione riguarda la eliminazione diciamo del balzello sugli esami cosiddetti intramenia la seconda riguarda appunto questo traguardo della riduzione delle tasse regionali in particolare la riduzione dello 0,30 dell'IRPEF e dello 0,15 della IRAP in realtà sono entrambe due dichiarazioni farlocche cioè non si può parlare di risultati politici della sua giunta men che meno della sua attività di commissario ad acta per la sanità perché nel primo caso cioè quello che riguarda l'intramenia in realtà non ha fatto altro che prendere atto di una decisione del Consiglio di Stato di qualche settimana prima che appunto ha stabilito con riferimento ad una legge della regione Umbria mi pare l'illegittimità di questa prestazione e quindi di questo ulteriore aggravio sugli esami di questo tipo quindi come si faccia a parlare di un suo merito politico francamente insomma non si capisce né tantomeno lui lo ha spiegato perché dopo che è stato per l'appunto richiamato diciamo dalla propaganda alla realtà dei fatti non mi pare che abbia potuto controbattere in alcun modo cioè ha preso atto che ci ha provato, è stato scoperto e quindi ha fatto l'ennesima figura diciamo che lo contraddistingue sulla seconda questione cioè sulla riduzione delle tasse a me non fa tanto specie che Frattura l'abbia propagandata come un grande risultato politico mi fa specie che ci sono stati alcuni soggetti istituzionali della nostra regione del tessuto socio-economico produttivo che addirittura hanno applaudito a questa decisione mi riferisco ad Assindustria Molise una dichiarazione che secondo me dimostra proprio il livello infimo del dibattito del dibattito anche non soltanto politico ma anche dei cosiddetti corpi intermedi riduzione dell'IRPEF e dell'IRAP è una bufala perché non si tratta di una conquista sul piano della capacità amministrativa si è trattato di una conseguenza contabile derivante dall'accensione di un mutuo di 250 milioni di euro che ha contratto l'aggiunta Frattura quindi dopo aver per anni criticato la precedente amministrazione regionale io aggiungo a ragione hanno pensato bene di accenderne un ulteriore mutuo di 250 milioni in forza del quale hanno avuto accesso ad una premialità da parte delle altre regioni e morale della favola si è per l'appunto potuto evitare l'ulteriore incremento dello 0,30% della cosiddetta super IRAP e della cosiddetta super IRPEF e super IRAP in realtà il mutuo non è che ce lo passa lo Stato oppure diciamo ci viene regalato lo ripagano i molisani due questioni come lo ripagano i molisani? lo ripagano in termini di minori servizi perché per coprire la rata del mutuo abbiamo praticamente impiegato risorse proprie regionali ora senza entrare troppo nei dettagli tecnici è noto che la regione molise non disponga di grandi entrate proprie cioè non abbiamo un gettito erariale proprio più di tanto consistente quello che abbiamo viene impiegato praticamente in modo consistente per coprire le rate del mutuo quindi i cittadini molisani avranno meno servizi perché se tu impieghi 6 milioni di euro l'anno provenienti dalla tassa automobilistica regionale per coprire la rata del mutuo evidentemente sono 6 milioni che non potrei più utilizzare per pagarci non lo so, i servizi pubblici dai trasporti passando agli altri servizi ai cittadini sociali, socioassistenziali oltre a questo taglio di 6 milioni di euro sulla tassa automobilistica la giunta regionale, la giunta frattura ha previsto ulteriori tagli cito una sola voce di spesa che mi è sembrata più comprensibile in qualche modo perché non è facilissimo orientarsi nel bilancio regionale ha tagliato i fondi per le malattie rare per le patologie rare non curabili in regione per un importo di alcune centinaia di migliaia di euro questa è la prima considerazione quindi non so come faccio a rivendicare questo merito né, come dicevo prima comprendo le ragioni per le quali se non quelle di una mera cap tazio benevolenze addirittura l'organizzazione degli industriali vada al rimorchio di queste dichiarazioni da pura propaganda politica da parte del governatore la seconda questione che invece ancora non è stata probabilmente sviscerata in modo adeguato e che secondo me dovrà esserlo a livello sia istituzionale che a livello mediatico e quindi politico è come sono stati impiegati questi 250 milioni di euro di mutuo che ha acceso la giunta frattura perché io ho notizia di una quota di questi 250 milioni pari a circa 90 milioni di euro che sono andati per pagare i presunti debiti sanitari di due operatori privati due Neuromed e Fondazione Cattolica e prima di essa l'Università Cattolica del Sacro Cuore circa 90 milioni di euro per pagare per l'appunto presunti debiti perché dico presunti? perché scaturiscono da operazioni di transazione in senso più o meno letterale ma non stiamo qui ad entrare nel medico cioè sostanzialmente a fronte della rinuncia i contenziosi pendenti di queste due strutture private la Regione ha stabilito di liquidare con dei provvedimenti del Direttore Generale di Innocenzo queste prestazioni sono più o meno per la metà 46 milioni per l'Istituto Neurologico di Pozziglia e la restante parte per la Cattolica e per la Fondazione di cui probabilmente sarebbe auspicabile che anche la stessa politica tracciasse un minimo di chiarimento certo, aggiungo pure magari l'opposizione farebbe bene a chiederne conto nelle sedi preposte a livello istituzionale a livello di Consiglio regionale non lo so, esistono ancora le interrogazioni anche se non mi pare che se ne stia facendo un grande uso lo dico anche con riferimento al silenzio di alcune frange politiche di opposizione che diciamo si distinguono per particolare puntiglio nell'affrontare alcune questioni anche meritori, insomma riferisco ai 5 Stelle che però su alcuni temi invece tacciono e secondo me questo silenzio è un silenzio eloquente da un lato e dall'altro sbagliato e pericoloso perché ci si attarda molto spesso su questioni veramente di lana caprina che hanno a che fare con pochi spiccioli e con questioni marginali e si dimenticano invece questioni gigantesche sia per quantità di risorse impiegate parliamo ripeto di 86 milioni proprio tu in più servizi affronti spesso il tema di come talvolta sull'altare della presunta mancanza di risorse vengono sottratti dei servizi essenziali ai cittadini e poi invece per due operatori privati si trovano addirittura i soldi per pagare prestazioni risalenti fa quasi ridere dirlo al 1993 come nel caso di queste transazioni di cui abbiamo parlato insomma a fronte di questi argomenti io non vedo quale sia il merito che possa rivendicare questa amministrazione regionale e vedo invece la necessità assoluta che si faccia chiarezza su questi passaggi bene restando alla parola chiarezza cerchiamo di fare chiarezza su un altro episodio increscioso di questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle Franco Spina anche lei è stato bacchettato dal presidente Frattura che addirittura pensando di aprirle così la mente le ha ricordato che anche la CGL di cui lei fa parte e cosa che sa molto bene ha firmato l'accordo con Amadori presso il Ministero a Roma per uscire dalle secche nelle quali è finita la filiera avicola in realtà ci racconti come stanno bene le cose perché questo è un accordo fatto di due pezzi uno che riguarda i lavoratori che hanno fatto a colpi di lacrime e sanque come si diceva nella scheda la loro parte adesso la parte che manca è quella della regione forse era questo che lei voleva indicare a Frattura non c'è ombra di dubbio tra l'altro mi dispiace che il presidente come dice nella sua intervista e replica sostanzialmente ponga in essere un atteggiamento del tipo ma non si è forse letti bene l'accordo quell'accordo vorrei precisare che noi lo abbiamo sottoposto ai lavoratori il giorno prima dell'incontro al Ministero quindi praticamente chi ha spiegato quell'accordo nei minimi dettagli ai lavoratori che dovevano decidere sono state le organizzazioni sindacali ed è stato il sottoscritto tra tutti coloro che sono stati lì in quell'assemblea infuocata quel giorno dove si doveva decidere una cosa molto semplice se o meno a fronte di quello che era un investimento e un'idea di rilancio della filiera vicola in capo ad Amadori a fronte delle rinunce molte rinunce adesso le enuncerò alcune che i lavoratori hanno dovuto sopportare c'era comunque la possibilità di dare il via libera all'imprenditore affinché entro l'8 marzo poiché ancora tutt'oggi c'è qualche piccolo problema che Amadori o meglio Agricola Vicentina non ha ancora perfezionato l'atto di acquisto potesse sostanzialmente venire giù perfezionare l'acquisto e cominciare un percorso l'accordo come è ben stato ricordato riguarda due pezzi gli attori di questa vicenda ne sono quattro il Ministero, la Regione Molise, l'Agricola Vicentina e le organizzazioni sindacali perché sono quattro? perché il tema è talmente complesso è la richiesta nostra di spostare il tavolo al Ministero poiché ormai non ci fidiamo più del semplice tavolo istituzionale regionale ne abbiamo tanti di proclame e di impegni scritti purtroppo non ancora in evasi tale da poter consentirci a noi di aprire una prospettiva anche per il dopo poiché questa è un'avvertenza che non si chiude domani mattina è un'avvertenza che nello stesso piano è previsto che almeno per 36 mesi ci dovrà essere in piedi un sistema di ammortizzatori dall'altro e dalla Regione un accompagnamento tale da consentire il rilancio dell'intera filiera quindi il Ministero svolgerà un compito essenziale di monitoraggio tra l'altro c'è un contratto di filiera in essere ci saranno delle risorse pubbliche a fondo perduto in essere saranno prelevate non solo dalle 181 attraverso l'area di crisi complessa ma anche appunto attraverso l'accordo di programma o meglio il contratto di filiera dopodiché c'è il pezzo regionale ci saranno risorse a valere sul PSR regionale che saranno dedicate allora il Ministero farà la sua parte noi abbiamo fatto più della nostra parte perché si è chiesto ai lavoratori di far ripartire la filiera a vigola in questa regione e non penso che sia compito dei lavoratori però ci siamo fatti carichi di che cosa? di rinunciare al 2.112 chiaro poi c'è da discutere se era applicabile o meno in caso specifico ci è stato chiesto esplicitamente e abbiamo rinunciato all'applicazione del 2.112 come parte sindacale i lavoratori per gli interi spettatori cos'è? si, so il diritto sostanzialmente che un lavoratore ad oggi impegnato in un'attività produttiva in caso in cui subentrano un'altra azienda che mantiene la stessa produzione nei stessi luoghi c'è il diritto di passaggio da un'azienda all'altra mantenendo gli stessi requisiti in questo caso è anche contrattuale l'altra cosa che noi abbiamo messo in discussione è proprio il contratto poiché ci è stato chiesto in maniera molto forte da Agricola Vicentina almeno nell'incubatorio perché poi per i macelli si applicherà un contratto migliorativo che è quello delle cooperative trasformazione un contratto prettamente agricolo quindi abbiamo rinunciato al diritto del 2.112 abbiamo ridiscusso i contratti abbiamo ridiscusso il numero di persone noi abbiamo sempre chiesto alle istituzioni perché questo è un punto cruciale il tema lavoro non può essere lasciato solo nelle mani delle organizzazioni sindacali cioè che noi siamo riusciti a portare a salvaguardare poi al di là della tipologia 170 unità lavorative da qui a tre anni poi vediamo come prima erano tutti stagionali adesso c'è una quota a tempo indeterminato c'è una discussione in atto con Agricola Vicentina che c'è la possibilità di aumentare quel numero c'è la discussione con Agricola Vicentina che in ogni caso ci si rivedrà per allargare le maglie rispetto a una prospettiva futura di filiera però per il momento parliamo di 170 unità noi in tutte le sedi in un ultimo venerdì precedente l'assemblea in sede di Prefettura di Campobasso c'era presente l'assessore veneziale abbiamo ancora per l'ennesima volta ribadito che forse sarebbe stato il caso che a trattare a livello ministeriale oltre a noi su che tipo di lavoro ricadute soprattutto la qualità dell'occupazione non fosse solo il sindacato ma ci fosse a fianco a noi la regione perché se non è tema quello dello sviluppo di una buona occupazione in questa regione il tema della discussione del dibattito politico vorrei capire qual è quindi c'è stato un primo pezzo che era con Agricola Vicentina l'accordo quindi fatto sui numeri, sui tempi e su quelle che saranno le tipologie e noi abbiamo messo su piatto tutta questa roba che non è poco non è poco poi manca il pezzo che deve fare la regione perché Agricola Vicentina con noi abbiamo definito un accordo la regione e qui che frattura forse c'è un po' le idee confuse proprio da una quindicina di giorni prima in consiglio regionale c'è stato un ordine del giorno votato a unanimità in cui si dicono delle cose quelle cose sono state parimenti riportate all'interno dell'accordo non a caso non fidandoci abbiamo preteso che l'accordo avesse due velocità uno con Agricola Vicentina in maniera tale che il lotto si superasse e Agricola Vicentina potesse e l'altro con la regione abbiamo voluto ricordare testé in quel momento in cui si firmava l'accordo al ministero al presidente che adesso il vero pezzo che mancherà sarà quello della regione poiché lì ci sono 280 lavoratori 170 saranno riempiegati e gli altri essendo che qui se non sbaglio lo stesso presidente ma non solo lui ha sempre detto sempre in ogni sede che nessuno sarà lasciato a piedi e questi lavoratori lo sanno noi abbiamo fatto in modo in maniera che all'interno di un accordo venissero contemplati tutti quegli strumenti che a valere dall'area di crisi ma non solo fossero posti in essere da parte della regione per poter fare in modo di ricollocare quei lavoratori ecco di questo perché il discorso qui si fa interessante sulla parte della regione poi ne parliamo nel prossimo giro di domande Antonio D'Ambrosio mi è sembrato di ascoltare i nostri due ospiti argomentare con pagatezza e con precisione alcuni temi caldi il tema della tassazione il tema della sanità il tema del lavoro quello che mi sorprende e lo dice uno che non ha come dire difficoltà ad ammettere di andare ogni tanto sopra le righe però il mestiere di giornalista è una cosa il mestiere di presidente della regione è un altro c'è nella professione giornalistica la possibilità di utilizzare molti strumenti compreso quello della satira per raccontare dei fatti e per essere pungenti e non credo che ci sia da parte della regione soprattutto di chi incarna le istituzioni il diritto all'esibizione dei muscoli noi questo lo stiamo notando giorno dopo giorno ad ogni critica si risponde con dei botti con dei fuochi d'artificio con supponenza e passatemi anche il termine con arroganza mi sembra Antonio che il dibattito politico sia scaduto non solo sul piano delle questioni ma soprattutto anche su quello dello stile beh da un po' di tempo specialmente sulle questioni come dire corpose che investe ecco il lavoro la sanità c'è un nervo scoperto del presidente e della giunta perché vogliono a tutti i costi ravvisare che attraverso la loro buona azione hanno risolto i problemi e spesso non è così drammaticamente non è così oggettivamente non è così perché la parte il vuoto che hanno creato consiste nella capacità di gestione di un passaggio da un sistema produttivo di compartecipazione pubblica a quello di mettere le aziende sul mercato questo è quando riguarda l'occupazione allora in questa gestione credo che la regione ci ha rimesso le penne in questo passaggio e tutti gli atti messi in ordine per governare no l'uscita della regione nel governo delle attività produttive e beh insomma la situazione non è stata al mio punto di vista visto che sono l'opinionista non è stata gestita con saggezza e nemmeno con grande capacità non è stato uno sforzo oggettivo che è stato fatto che hanno tentato di farlo risultati niente zero anzi contrasta con una delle affermazioni fatte anche recentemente da più persone lo stesso presidente Frattura che la regione non fa polli bene non fa polli va bene però abbiamo perso il valore di quell'azienda 50 milioni Massimo aiutami a capire perché vale zero e la regione investiranno altri 25 milioni per poter riattivare le cose che diceva Franco quindi sono i 25 milioni che mette adesso o sono i 50 che abbiamo perso per una strategia politica economica che non ha consentito di avere un intervento e di governare questi passaggi da un'azienda legittimamente e giustamente doveva uscire la regione deve uscire non sono più quei tempi politici né economici per governare questi processi anche se c'è sempre una strategia che tu devi mettere in capo questa strategia non ha fruttato nonostante forse si siano anche impegnate non ha fruttato niente anzi ha fatto sì che si sperperasse ulteriore denaro pubblico per la perdita del valore delle mobile degli stabilimenti e del know-how del mercato che avevano quelle aziende parla zuccherificio e la gamma e poi alla fine vediamo che servono un altro e 25 milioni di soldi finanziamenti pubblici per rilanciare il settore potremmo dirlo prima forse avremmo risparmiato che la strategia di uscita poteva essere governata diversamente questa non c'è stata e su questo se qualcuno purtroppo si è in pochi in regione si ragiona si innervosiscono si innervosiscono non si può dire non puoi avere un'opinione diversa anche dimostrabile sotto questo profilo ed è il caso diciamo che stiamo assistendo tra il zuccherificio e la gamma è il caso della sanità che è una cosa che francamente insomma i molisani dovrebbero scendere nelle piazze per essere garantito il minimo della salute no? le cittadine i propri figli le proprie persone la propria serena vecchiaia e invece anche lì addirittura anche a me diceva giustamente Massimo Romano nel leggere quel comunicato stampa io sono rimasto basito perché non era proprio il caso di una propaganda del genere perché tu hai detto bene era propaganda o crede che abbiamo la dell'annasso o voglio dire ci stai prendendo come dire per fessi cittadini che hanno veramente come dire gli occhi come dicevi tu di cataratta e di nella copertina e mi complimenti anch'io per la copertina ma come si fa a sostenere nelle cose del genere certo qualcuno interviene ma 14 euro l'anno quanto è 14? 44 euro l'anno sembra qualcosa giustamente 44 euro l'anno però dove stiamo pagando noi? è una pizza in mezzo si dice ma sembra un risultato positivo perché non aumenta ma abbiamo 44 bene fermiamo le bocce queste 44 per arrivare a quel risultato è stato spiegato e documentato perché esistono documenti alla mano che noi abbiamo dovuto come dire subire un taglio sulla sanità pubblica che è drammatico che è drammatico i molisani hanno dovuto mettersi sulle spalle 250 milioni di euro di mutuo e sono rate che paghiamo che potevano essere investite diversamente sia sulla salute sia sul sociale sia sull'attività produttiva erano le risorse vive cioè le margine di manorre dicevamo prima che ha il bilancio della regione visto che lo dobbiamo pagare con le nostre risorse sono ancora più ingessate per arrivare a questa è vero che non l'hanno prodotto loro anche questo è vero però è una storia insomma che a qualche certo punto deve avere pure una fine no ti sei candidato per governare un disastro perché in campagna elettorale era stata detta la situazione che si trovava beh questo governo di questa crisi a me sembra insomma ecco con maggior sobrietà forse avrebbero fatte le cose migliori io chiudo facendo notare che il nervo scoperto quanto sta nella scarsa democrazia che si è creata all'interno della regione nel governare le cose complesse sono sempre le stesse persone a me mi ricordo il film di Woody Allen Zellig che si trasformava secondo le esigenze in un grande attore in un militare russo in un dittatore cioè è sempre lui poi alla fine tu vai a vedere che è sempre lui c'è un deficit in questo Zellig di democrazia o no? cioè è possibile che una persona riesce a governare questioni così complesse da solo da solo e allora questo sta portando alla morte la nostra regione che già non sa competere di fronte alla crisi che c'è ma capire il Zellig che c'è all'interno della democrazia nostra rappresentata della regione regionale io credo che la morte è certa e finalmente sono riuscito a capire cosa volesse dire Woody Allen dopo 35 anni beh lo dicevamo l'altra volta no? che al cospetto di certi personaggi che circolano in regioni i camaleonti sono dei fari nella notte sono dei dei dilettanti purtroppo qui il mimetismo oramai è all'ordine del giorno facciamo una breve pausa pubblicitaria poi torniamo in studio e continuiamo a dibattere su questo molise che non esiste ma non è che non esista perché materialmente sprofondato da qualche parte perché stanno facendo di tutto per cancellarlo una breve pausa pubblicitaria poi torniamo in studio eccoci di nuovo in studio vorrei porre l'accento con Massimo Romano su un termine pubblico perché parliamo di sanità pubblica di acqua pubblica in realtà stiamo assistendo a un processo come dire di smantellamento di questo concetto che riguarda sia la sanità che l'acqua come stanno le cose ma è abbastanza evidente che ci sia una tendenza per la verità non soltanto nella regione molise ma proprio a livello nazionale a contravvenire a quella che è stata un'indicazione di milioni di cittadini che con il referendum per quanto riguarda l'acqua si sono espressi per la chiara natura pubblica sia del bene in sé per sé sia della gestione contravvenendo e quindi violando e calpestando il volere degli elettori di milioni di elettori in realtà la politica continua ad essere piegata ad interessi che di pubblico hanno ben poco e sono chiaramente ispirate da interessi di grosse lobby private economiche multinazionali l'acqua è una risorsa per il molise una risorsa per il pianeta evidentemente ma una politica seria in molise non potrebbe mai consentire di creare i presupposti giuridici economici ed istituzionali per la futura privatizzazione dell'acqua del bene in sé della sua gestione perché l'acqua è la nostra probabilmente unica arma di ricatto tra virgolette nei processi politici ed istituzionali nazionali cioè il molise viene costantemente dileggiato a livello nazionale per le sue dimensioni sia demografiche che geografiche Renzi ci ha fatto una campagna elettorale immonda a mio avviso durante il referendum prendendoci proprio per i fondelli dicendo che insomma una regione di pezzenti consiglieri regionali che votavano per la bisogna e no al referendum io l'ho detto a suo tempo ovviamente non sono stato l'unico se fossi stato il presidente della regione o il segretario del partito mi sarei dimesso all'istante cioè l'avrei preso per un orecchio metaforicamente parlando ma forse non solo e avrei preteso le scuse nei confronti della classe dirigente del mio partito o della mia maggioranza politica se fossi stato governatore e nonostante si trattasse del mio segretario politico cioè a suo tempo Renzi presidente del consiglio del segretario politico ma dico questo perché in realtà la vicenda acqua con la vicenda sanità sono figlie di uno stesso copione così come il decreto balduzzi ha privato le regioni come il molise della possibilità di avere un sistema sanitario regionale dotato di alcune infrastrutture asset strategici penso aldea di secondo livello frattura in quel giorno non andò proprio in conferenza stato-regioni nonostante come tutti sanno la conferenza stato-regioni sia un organo che decide come dire attribuito a ciascuno un potere di veto cioè se frattura si fosse presentato e avesse posto il veto rispetto a quel disegno il decreto balduzzi non sarebbe passato frattura non ha ancora mai spiegato purtroppo non gli è stato chiesto nemmeno nelle sedi preposte di spiegare perché quel giorno non andò cioè se stava al mare oppure se stava oppure se ci fu una ragione politica sta di fatto che non presentandosi il decreto è passato e quindi il Molise oggi sta assistendo allo smantellamento per esempio dell'ospedale Cardarelli che già oggi non è più l'ospedale regionale quindi al di là del disegno di programmazione stiamo subendo e continuiamo a subire un depauperamento di strutture e di risorse umane strumentali materiali e quindi anche economiche sull'acqua l'acqua dovrebbe essere utilizzata da una classe politica che rispondesse effettivamente all'elettorato che li ha eletti cioè che rispondesse al Molise e non invece a segreterie di partito o addirittura a gruppi privati dovrebbe essere utilizzata per barattare sul piano nazionale una serie di condizioni di vantaggio che oggi non abbiamo e se la si utilizza al contrario per ragioni di micro bottega quindi delegando e sostanzialmente rinunciando a farne leva in termini positivi evidentemente il Molise perde una speranza e forse perde la speranza EGAM faccio sempre fatica come sai a parlare di vicende delle quali mi sono occupato professionalmente come il caso dell'EGAM in una sede è giusto raccontare ai telespettatori esatto però diciamo mi astengo da valutazioni perché appunto non c'è la controparte diciamo processuale però lì la questione è molto chiara cioè al di là dell'annullamento della delibera da parte del TAR sul presupposto dell'incompetenza dell'aggiunta e che quindi oggi stanno sanando riportandola in consiglio lì il problema è che si sta creando un organismo questo EGAM che è l'anticamera della privatizzazione ha voglia a fare banner pubblicitari oppure a fare spot più o meno diciamo campati in aria su salvifiche soluzioni emendamenti leggi o altro cioè lì il punto è che se tu fai un organo a cui deleghi la futura gestione del sistema idrico e non ne precostituisci né i costi né tantomeno fai un ragionamento sulle tariffe con la situazione di indebitamento drammatica che Amolise acque tu stai precostituendo la situazione per la privatizzazione che poi è esattamente quello che si è verificato sulle partecipate cioè le partecipate io come sai sono stato uno di quelli che ha criticato drammaticamente la gestione precedente però se a fronte di quella gestione discutibile sbagliata per certi versi per molti versi anzi se la soluzione alternativa era lasciarle morire così come è stato è chiaro che lì non ci voleva una classe dirigente nuova ci bastava un vecchino cioè bastava uno che andasse lì non facesse nulla si mettesse le braccia concerte e le aziende andavano a morire che è quello che si è verificato perché quando si è parlato anche prima della gamma delle questioni dell'accordo eccetera è chiaro che la regione come parte necessaria di questo processo quando arriva al tavolo con l'azienda chiusa da quattro anni è chiaro che ci arriva senza nessun potere contrattuale cioè o ti mangi sta minestra o ti butti dalla finestra è chiaro che si è parlato di un tra virgolette senza diciamo voler usare dei termini troppo forti di una forma anche di potere di ricatto in capo al privato aggiudicatario perché della serie tu ci arrivi con la filiera morta ci arrivi con la struttura chiusa dalla stessa voce del nuovo acquirente si parla di non meno di 36 mesi per riavviarla attraverso attività investimenti e quant'altro è chiaro che tu cioè ti aggrappi a chiunque arrivi perché tra il nulla e una prospettiva diciamo così tu ti ci devi aggrappare ma vogliamo parlare di zuccherificio cioè sullo zuccherificio io diciamo non voglio manco discutere la perché non è politica quella pensare che nella campagna elettorale referendaria hanno fatto uno spot con il ministro dell'agricoltura hanno portato il ministro dell'agricoltura a parlare con i lavoratori dello zuccherificio promettendo imminenti salvifiche soluzioni spostiamo la vertenza sul tavolo nazionale il ministro ci ha dato garanzie questo quando al ridosso del referendum e un mese dopo lo stesso assessore dell'agricoltura dice sì ma qui non sono dei pazzi è un pazzo chi pensa di poter fare che la regione possa continuare a fare industria ma forse se l'è dato cioè si è dimenticato di quello che hanno detto loro stessi alla presenza del ministro e alla presenza dei lavoratori quello che a me diciamo colpisce è che a fronte di una inesorabile e quindi fallimento di quel comparto agroindustriale cioè la politica regionale agroindustriale agroalimentare non si è posta il problema di come riconvertire quell'assetto strategico quell'assetto strategico cioè chiude lo zuccherificio tutti coloro i quali mettevano le barbabietole purtroppo negli ultimi anni ben pochi che faranno? cioè la politica regionale come risponde a questa a questo segno meno con il PSR cioè con il PSR che stanno portando oggi in discussione con i bandi che stanno che stanno parando oggi allora si chiude una partita non se ne apre un'altra è antistorico pensare che la regione continua a fare impresa vogliamo essere d'accordo tu regione devi dire qual è la modalità alternativa per garantire quei livelli occupazionali perché poi riferendomi all'intervento di Antonio D'Ambrosio di poco fa oltre al costo diciamo vivo dell'investimento che poi comunque si andrà a fare o del depauperamento del valore dell'azienda c'è un costo sociale che è clamoroso cioè sulla chiusura delle realtà produttive che reggevano la nostra economia con i soldi pubblici che deplorevole quello che vuoi si è pagato un costo sociale che è clamoroso cioè io lo dico dall'osservatorio geografico di Boiano per capirci cioè non esiste quasi più nulla non è il sapientino del Matese sono senz'altro io devo dire che devo dire che questo è uno dei pochi passaggi sui quali ci concentriamo qualche pausa di ironia perché Frattura ha parlato di un sapientino del Matese e un sapientone dell'Adriatico per lo meno abbiamo capito chi è uno abbiamo capito tutte e due chissà abbiamo capito quello è un passaggio che devo dire nel grigiume di Frattura mi ha fatto anche sorridere quindi è stato anche dopodiché quasi brillante detto non era originale perché l'aveva tirato fuori pure dal dopo di che insomma al sapientino io ho contrapposto l'immagine di Pinocchio perché mi pare che Frattura si sia contraddistinto in più passaggi per un'attitudine diciamo a mistificare i dati di fatto oggettivi che lo rende diciamo collodianamente molto 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 in sintonia con quella figura del burattino di legno ma il costo sociale dicevo è clamoroso è drammatico soltanto chi diciamo non vive tra la gente non ascolta quella che è la tragedia che si registra lì non si rende conto che c'è un rischio di essere banale ma non è banale anzi la politica dovrebbe parlare di questo c'è un esodo una migrazione proprio di persone giovani e meno giovani che probabilmente non si registrava da anni e a fronte di questo da decenni e a fronte di questo non ci sono delle misure di politica tali da poter garantire un livello di reddito in modo alternativo quindi da questo punto di vista secondo me il giudizio è fallimentare ecco bene sul termine misura ripasso la parola a Franco Spina perché ci eravamo lasciati nel precedente nella precedente conversazione proprio su questo punto quali sono le misure che a questo punto la regione deve mettere in campo rispetto all'accordo siglato per la filiera agricola ma le misure sono di politiche attive e politiche passive politiche attive volte ovviamente al veniva detto poc'anzi uno degli obiettivi ovviamente di chi governa una regione che nei momenti in cui vanno in crisi alcuni settori o comunque alcune attività si dovrebbe già poter immaginare come in che modo si dia si dia la possibilità ad altri settori di intervenire man mano di andare così ad incrementare a rioccupare una parte di quelli lavoratori anzi a dare la possibilità anche ai giovani di cui tanto si parla in questa regione ma di cui nessuno praticamente se ne occupa dall'altro ci sono le politiche però passive cioè legate al fatto che c'è una popolazione in quell'azienda ma quelle politiche che non riguardano solo la gamma poi credo che sia opportuno non c'è l'assessore al lavoro appunto tanto più perché parliamo senza l'assessore al lavoro con una delega che diciamo parzialmente di volta in volta data all'assessore alle attività produttive o in capo direttamente al presidente quindi già questa insomma è un'altra complicanza non da poco in un momento critico come quello che stiamo vivendo le politiche passive sono quelle che ad esempio per una realtà come quella di Boiata dove ci sono su 280 lavoratori oltre il 60% di persone che hanno più di 50 anni 55 anni a salire sono tutte quelle persone che fra 3 anni avranno una certa età e che probabilmente non rientreranno più in quella realtà ma così come in tutta l'area di crisi perché vorrei ricordare che il discorso gamma è un discorso importante ma non dimentichiamoci che in quell'area di crisi che va da Boiano fino praticamente a Venafro ci sono e c'erano delle attività come l'ITR c'è tutto l'indotto del metameccanico di cui si è perso praticamente tracce per ritornare al tema politiche attive e passive la Regione che cosa si è rimpegnata a fare ed è quello che stiamo chiedendo tra l'altro con quella con quel intervento ministeriale fatto lì al tavolo eh da un lato la Regione dice noi siamo in grado attraverso i 7 milioni di politiche attive 8 milioni di politiche passive individuate nel bilancio di mettere in campo azione di accompagnamento alla fuoriuscita di attività di lavoro di pubblico utilità attraverso anche il riperimento di ulteriori fondi noi avevamo detto i FEG in questa Regione sembra una parola strana questa Regione non si è mai utilizzata invece è uno strumento che in tutte le altre realtà dove c'è una situazione di crisi si sono utilizzate fonti aggiuntivi per far fronte alla situazione di crisi se i FEG nascono proprio come fondi a sostegno di quelle aree che in base al discorso della globalizzazione hanno subito delle difficoltà quindi proprio perché ad esempio sullo zuccherificio si parlava di zucchero lo zucchero non è più conveniente produrlo in Italia proprio per quelle situazioni ci sono dei fondi aggiuntivi di cui nessuno qui ha mai parlato la Regione non ha tracce non abbiamo provato a dire guardate che forse abbiamo portato fisicamente pure gli accordi fatti altrove fatti altrove per dire guardate insomma più o meno la traccia è questa quindi individuazione di risorse sul autoimpiego quindi dovevamo capire dalla Regione dobbiamo capire quante risorse sono per l'autoimpiego quante risorse vengono messe per l'accompagnamento alla pensione quante risorse vengono messe per i lavori di pubblico utilità di cui si è ripreso questo vecchio insomma che non sono gli LSU ma sono una forma moderna comunque legata a quelle persone che hanno ancora davanti due o tre anni di ammortizzatore possono essere utilizzate alle amministrazioni comunali o alle amministrazioni pubbliche per accompagnare la pensione ma dando anche giustamente un ritorno in termini di servizi quante risorse devono essere immesse ad esempio per quelle che sono le attività improprio cioè l'autoimpiego che in alcuni casi sono stati già verificati almeno da noi ci sono delle situazioni in cui alcuni lavoratori ritengono che possono sviluppare in proprie delle attività questa questa montagna di interventi che sono stati propagandati in ogni dove ad oggi gli stessi che vengono proposti per lo zuccherificio ormai è un cliché con l'aggiunta invece dell'incentivo all'esodo per la gamma l'esodo alla gamma l'incentivo all'esodo è possibile in quanto sono ancora in cassa integrazione mentre la gamma purtroppo lo zuccherificio sono già in mobilità quindi non c'è incentivazione che tenga in quel caso quindi c'è quest'ulteriore possibilità ma che la Regione in piena autonomia e attraverso anche diciamo somme che ha tirato fuori di volta in volta senza mai spiegare bene da dove li prendiamo questo è il crucio nostro se continuiamo a fare solo propaganda e a continuare a illudere quelle persone che ci sono tante possibilità però poi non riusciamo mai a metterle a frutto e trasformare quelli che sono gli impegni scritti in atti concreti e c'è qualche problema perché c'è una guerra sociale in atto che fa paura la guerra sociale tra quelli che non hanno proprio nulla anche nell'area di crisi tra quelli che come quelli della gamma hanno una possibilità e tra gli altri che come quelli dello zuccherificio non hanno né l'una né l'altra perché l'area di crisi è ancora da mettere su appunto diventa una guerra povera e ritorniamo al punto di partenza cioè se la Regione adesso non fra sei mesi capisco e capiamo che siamo ormai in una fase preelettorale ma il mio accorato appello era che adesso bisogna trasformare in atto concreto l'impegno assunto ad esempio la Regione si è assunto l'onere all'interno del mille proroghe di dire che anche per i Molise sarà possibile un ulteriore anno di cassa integrazione di proroga noi abbiamo avuto qualche perplessità ma sicuramente siamo lì pronti se c'è la certezza però come la Regione sostiene non capisco perché dobbiamo rinviare nel tempo la discussione affrontiamo chiariamola subito con i parlamentari anche attraverso i parlamentari nostri chiariamolo subito con il Ministero novembre che è la data ultima della cassa integrazione è alle porte allora sulla gamma non c'è una strategia è quel poco che c'è stato ha ragione chi dice al tavolo siamo arrivati deboli ma è altrettanto vero che a quel tavolo se almeno la parte diciamo istituzionale ci avesse dato una mano per dire vero che qui siamo all'anno zero ma è altrettanto vero che proprio per gli sforzi economici da un lato ma anche voglio dire lavoristici dall'altro possiamo offrire qualcosa di più riusciamo a strappare qualche io sono convinto che saremmo riusciti a strappare di più ma ogni posto di lavoro che oggi tu riesci a salvare lì non è un posto di lavoro di quelli che ci lavorano molti dei quali ripeto non rientreranno più per un fatto di età anagrafica ma è un posto che noi vediamo ai nostri morisani ai nostri giovani cioè ripartiamo da un qualche cosa di vero e di concreto purtroppo ci si preoccupa di un pezzo che è quello invece di dire se salta l'operazione questa è stata la cosa che ci ha fatto arrabbiare anche i lavoratori se salta l'operazione deve essere chiaro che sono i lavoratori che non vogliono amatori cioè questa è stata la cosa che proprio veramente ci ha fatto incazzare perché non è che tu puoi legare a un piano di rilancio della filiera vicola del Molise no? al fatto che se qualcuno pur calpestato in tutti i suoi diritti dice di no è la colpa è la sua perché non c'è voglia di lavorare in questo no no è una perfetta cioè è una cosa veramente vergognosa e allora violenta e vergognosa da lì noi a questo punto abbiamo detto ma è molto chiaro a tutte le istituzioni anche a sua eccellenza il prefetto benissimo noi abbiamo fatto i nostri compiti a casa adesso però su tutti quei punti che dicevo poc'anzi bisogna individuare le risorse bisogna fare subito e bisogna mettere in campo le politiche attive e passive fermo restando che siamo ancora dopo un anno a dover fare la profilazione senza la quale tutte queste belle cose che stiamo dicendo non hanno un senso perché tu fino a quando non sai quanta gente vuole mettersi in proprio quanta ne può andare in pensione quanta eventualmente ha diritto può aver diritto all'incendio e quant'altro di che cosa stiamo parlando ed è un anno che stiamo chiedendo poi capisco che si rinvia un centro per l'impiego che ha altre difficoltà e qui entriamo proprio nel paradosso che i precari o quelli che non hanno oggi una situazione diciamo tranquilla devono fare la profilazione ad altri lavoratori che stanno peggio di loro quindi è una situazione paradossale però voglio dire dobbiamo mettere un punto a tutto questo poi chiusa la gamma poi se abbiamo tempo parliamo di tutto il resto perché c'è un'area di crisi c'è la questione del patto per il sud il famoso patto per il sud firmato con Renzi c'è tutta la partita che ha a che fare con l'area di crisi semplice ma non solo lo faremo nella terza parte Antonio D'Ambrosio manca in tutto questo una strategia si vive di piccole tattiche quotidiane ma manca una strategia di fondo un tempo le strategie le disegnavano i partiti ne abbiamo parlato mille volte qui parlando di democrazia cristiana di partito comunista però è chiaro che ci sono degli attori politici e questo non ce lo possiamo nascondere attori politici che si stanno riattrezzando per i prossimi appuntamenti sia politici nazionali che regionali l'attore politico principale non perché lo diciamo noi ma perché questo è il consenso elettorale che lo ha stabilito è il partito democratico che anche qui in Molise sembra essere andato più che verso una scessione verso una come dire frammentazione generale c'è uno sbandamento alla ultima assemblea pubblica che poi è stata come dire una chiacchierata tra amici qualcuno si è defilato il vice segretario regionale Michele Di Giglio se ne è andato sbattendo la porta ci sono stati dei cambiamenti all'interno del gruppo regionale nel senso che è stato individuato il consigliere Massimiliano Scarabbeo come capogruppo ma in aperta la rotta di collisione sia con il governatore che con lo stesso partito ormai da tempo io mi chiedo e ti chiedo se questo è il partito principale con quali presupposti ci accingiamo ad individuare delle soluzioni all'interno del lagone politico ha fatto venire in mente il mio professore all'università dove ci spiegava Massimo ancora era nato dove ci spiegava i partiti in America negli Stati Uniti d'America che sono l'esempio era questo ci sono due bottiglie vuote si riempiono sotto la campagna elettorale con due etichette diverse noi ridevamo eravamo come venivamo da un altro percorso di lotte sociali politiche giovani eccetera ridevamo di quella democrazia mentre la nostra era quella partecipata dove i partiti come dire incidevano sui percorsi sulle scelte no? ed era la intermediazione tra il corpo sociale e lo stato il governo e quindi sta cosa quella democrazia fassula negli Stati Uniti d'America era una cosa che non si poteva ascoltare e ridevamo perché ci ritenevamo avanti non siamo arrivati lì sono i partiti due bottiglie vuote tre cinque sette con l'etichetta a fianco sotto la campagna elettorale di cui c'è un volto c'è un simbolo c'è una cosa che non ha nessuna attinenza correale e la scenografia che è disegnato dell'ultimo degli avvenimenti accadimenti nazionali locali in merito al partito democratico lasciano perplessi perché vediamo che sono veramente quella bottiglia veramente sono un'etichetta esterna si riempie di contenuti per quella circostanza e diventa un tal partito e lo scombaginamento adesso è palese perché a non tutti piace a quei contenuti a non tutti si trovano bene in quei contenuti specialmente se come abbiamo assistito qui da noi una ricollocazione per vedere chi è il proprietario di quella bottiglia quantomeno temporanea per vedere questa me la scolo io punto perché da dubbi vantaggi a tenere la bottiglia in mano o avere un prodotto come dire i tre quarti quella bottiglia è mia poi vediamo un po' come ripartire questa bottiglia quindi abbiamo assistito a questa spartizione e abbiamo assistito a nessun messaggio in un momento così interessante no? di confronto anche tra varie posizioni che potevano emergere noi non abbiamo assistito a nulla ha citato il professor Michele Di Giglio che si è dimesso dalla segreteria regionale non se n'è andato che si è dimesso con una critica voglio dire qualcuno ha detto un po' tardiva ma chiara di cui non si discute di niente che cos'è diventato che cos'è cioè si è trovato nonostante stessa la segreteria regionale si è ritrovata non riconoscibile il percorso per cui era stato animato a rimanere in quel partito aderire sostenere quel partito i programmi non si fa una iniziativa e non fanno un'iniziativa politica da oltre un anno non si riunisce la direzione di quel partito ognuno gioca una partita e ognuno ha un pezzo e governa è l'ultimo pezzo che abbiamo assistito che ha fatto più testa il 28 di febbraio perché diventa il padrone di quella bottiglia perché quella bottiglia che vantaggi dà c'è il simbolo c'è la decisione finale chi candidare dove candidare dove mettere c'è la tutela di Roma e quindi hai disegnato una strategia attraverso il quale puoi usare quella strada che che è automatica e lì ci metti Giovanni Francesco Antonio o ci vai tu ci va l'altro questo è quella doveva essere una riunione dove si doveva parlare delle cose che stiamo parlando stasera qui e attorno a queste cose vedere quante interesse suscitavano e quante strategie potevano essere messe in campo invece addirittura una critica feroce a chi se n'è andata è una rincorsa a presentarsi in prima fila per dire sono arrivato io però non ha nessun nessun significato quindi non c'è nessun ruolo e non c'è stata un'idea che sia partita dal partito nei confronti della gestione delle cose pubbliche da noi e qua e quindi perciò quando dicevo che il presidente Prattura è il zelig della situazione che si riesce a trasformarsi in tutto insomma non lo so se farà pure visto che sulla sanità se farà pure le ricette mediche a qualche consigliere che si trova in imbarazzo in quel momento gli prescrive qualche cosa cioè fa tutto lui ed è un dramma perché torno a ripetere questo metodo di scarsa democrazia l'assenza del ruolo del partito politico che ha avuto già il consenso per governare questa regione e questo fa sì che la morte sia certa questa regione con i costi sociali secondo te pagherà un pedaggio il PD alle prossime elezioni? io penso di sì io già l'ho detto la volta scorsa io penso che i cittadini molisani nonostante siano ancora molto condizionati al familismo no? se presenta il cugino il parente lo zio il piacere insomma c'è una fetta di questo ma non governano tutto il territorio i molisani già hanno scelto a chi votare io ne sono convintissimo cioè c'è oggettivamente governare un sentimento di protesta e di cambiamento che c'è ora chi lo prenderà è da vedere ma su questo ne sono convintissimo nessuna strategia reggerà vedete c'è un problema ci sono 727 milioni Franco diceva fatto ci sono 909 posti precari da sistemare c'è benissimo ci sono e da capire chiudendo tutto in sanità queste 909 persone che facciano poi insomma non lo so ma questo è l'ipotesi no sono pure proveri precari capito sono pure proveri precari forse dovevano essere sistemati prima 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 ma siccome trovate ritardo nell'approvazione del piano mi sembra che non sia nemmeno approvato il piano questo è un altro tipo è sotto condizione no no non lo sappiamo l'approvazione non lo sappiamo viene detto dal presidente guai a dirgli guarda forse non è approvato faccelo vedere forse se frattura Zelig si trasformasse in Sherlock Holmes forse no la prossima volta metterà anche a me fra sapientini e sapienti chissà cosa mi dirà il sapientaccio di Petacciato chissà cosa mi dirà per individuarmi perché se tu gli dici scusa va bene hanno firmato va bene facci vedere il documento esiste da nessuna parte ma come si fa a governare un processo così Franco diceva ma scusami ma non è l'enunciazione io mi ricordo certi convegni del partito comunista la domenica si facevano il bagno e poi venivano al partito facevano l'intervento la loro funzione era finita poi c'eravamo i fessi che dovevamo andare a appiccicare i manifesti la mancano i fessi per andare a appiccicare i manifesti fanno i proclami e se lui ha creato una struttura piramidale come quella che ho detto di Zelig tutto il resto non c'è niente chi segue i problemi chi va a Roma chi corre chi mette discussione con il sindacato chi trova la pratica c'è niente perché hanno delegittimato anche quei pochi dirigenti di carriera all'interno della struttura di cui sono persone invisibili e che hanno nominato i loro dirigenti e da lì danno disposizione ma a chi disposizione che se non c'è più niente nel retroterra che sa considerare che tutto lo stato maggiore dell'ASREM è tutto di provenienza extra regionale non c'è più nessun molisano che abbia le capacità di fare e di avere un incarico all'interno del pubblico non è che lo devi trovare fuori che possa assolvere a delle funzioni quindi distrutto un ceto proprio della burocrazia molisana che c'erano anche delle cose molto dignitose che venivano da una buona scuola molto era come dire ferraglie ma c'erano un gruppo dirigente almeno quando c'ero io che voglio dire di grande rispetto ancora sì ma non contano niente non contano sono dei subalterni ridotti marginalizzati quindi come si fa a governare questioni così complesse senza l'appoggio di una macchina amministrativa che funzioni e diventa il dramma vero sociale e i costi che qui aumentano allora diciamo la sintesi di questo ragionamento è un sistema che è stato creato che non ha funzionato ed è stato sbagliato Renzi perché hanno scimmiottato Renzi anche nazionale ne ha incontrati i limiti quando si è scontrato con la volontà popolare del 4 dicembre e del primo appuntamento ha avuto una batosta enorme credo che la stessa batosta si avrà qua nonostante le loro tentative di rimettere su pezzi accordi pezzi di centrodestra pezzi di centrosinistra pezzi di gestione di fondi concorsi ma non vanno più in tempo a fare niente i molistani l'hanno capito bene altra pausa pubblicitaria poi torniamo di nuovo in studio per il colloquio finale con i nostri ospiti stiamo parlando dello scenario regionale come spesso e purtroppo aggiungo ci capita di fare ultimamente ma questi sono i temi e noi d'altra parte possiamo cucinare solo con gli ingredienti che abbiamo pausa pubblicitaria bene eccoci di nuovo in studio per la parte conclusiva di Millibar Massimo Romano mi sembra che l'analisi delle cose che non vanno sia ormai chiara e lo sia da tempo chiaramente bisogna porsi un altro interrogativo da dove si ricomincia se ci sarà la possibilità di ricominciare perché è necessario come dire creare delle alternative Antonio D'Ambrosio diceva che i molisani hanno già deciso come votare ma lasciava intuire una cosa votare contro questo tipo di sistema poi chi sarà capace di incarnare una proposta alternativa questo è tutto da vedere perché non ci sono idee chiare a dire il vero da nessuna parte a parte lo splendido isolamento del Movimento 5 Stelle che però bisognerà vedere se alla prova dei fatti otterrà quel voto in più per poter governare da tutte le altre parti c'è confusione lei è uno dei fondatori di Coscienza Civica insomma un movimento che oramai è attivo da più di un anno al quale fanno capo diversi amministratori sindaci che è stato in prima linea su mille battaglie abbiamo ricordato quello dell'acqua pubblica ma sono tantissimi altri i temi a cui il movimento si è dedicato lei se la sarà fatta un'idea da dove si ricomincia? ma guardi secondo me si ricomincia da una condivisione sulle cose da fare si ricomincia da una creazione di un sistema anche di alleanze tra persone associazioni e movimenti sulla base di un programma che però non deve essere il programma che si fa per prendere in giro gli elettori deve essere un elenco di cose molto specifiche molto puntuali sulle quali bisogna mettersi d'accordo prima di chiedere il voto agli elettori perché è inutile girarci intorno se si andrà a votare alle regionali insieme alle politiche riprenderà un ruolo centrale lo schema dei partiti nazionali che per quanto sia messo in modo come si diceva prima per quanto siano all'anno zero svolgono comunque svolgeranno comunque un ruolo non fosse altro che per la esposizione mediatica che hanno i partiti nazionali durante la campagna elettorale non ci vuole io ci sono passato anche nel 2013 quando si votò insieme politiche regionali evidentemente io non avevo la mia coalizione dei partiti nazionali che mi sostenevano e ho subito in qualche modo un danno perché i partiti le coalizioni tradizionali hanno beneficiato dell'abbrivio quindi della dell'onda lunga dei simboli nazionali tu ricorderai berlusconi era dato per morto un mese prima delle elezioni nei 30 giorni di campagna elettorale recuperò qualcosa come 12 punti bersani i parlamentari molisani che sono stati eletti nel partito democratico non hanno fatto nemmeno i manifesti con le loro facce perché mettevano avanti la faccia di bersani quindi quando tu chiedevi agli elettori dici guarda chi voti no io voto bersani ma guarda che tu non voti bersani se voti per il pd locale voti per i soggetti che sono candidati qui e la risposta era no ma io voto bersani quindi per non parlare dei 5 stelle diciamo che hanno una quindi se questo è lo schema di gioco io sono molto tengo molto i piedi per terra c'è una grandissima aspettativa di cambiamento non sono sicuro che questa aspettativa di cambiamento possa essere intercettata da gruppi che hanno nel loro dna una vocazione a cambiare sono estremamente onesto provo ad essere estremamente onesto nel dirlo le elezioni nelle ultime tornate sia a livello regionale che a livello dei più grandi comuni della regione le hanno vinte dei gruppi di singoli che hanno deciso dove collocarsi l'ultima notte e non sono stati penalizzati dai cittadini anzi qualcuno ha definito questa coalizione patricentrosinistra è una definizione esatta che oggi le carte le dia patriciello nel centrosinistra regionale e che è lui che stia decidendo praticamente tutto dal punto di vista politico per il suo legame con frattura il vero problema è che continua a dare le carte pure nella metà campo di centrodestra nel senso che quello che secondo me va fatto come come sforzo di chiarezza è che ognuno dovrebbe tenere una maglietta cioè tu scegli di stare a sinistra o di sostenere le frattura beh è una scelta come dire che si commenterà commenteranno gli elettori però non puoi pensare di avere due magliette e di cambiartela l'occorrenza oppure di sedere a tutti e due i tavoli questo vale per patriciello o per la sua lista civica ma vale anche per altri cioè vale per Forza Italia il referente di Forza Italia è notoriamente uno che sostiene il Partito Democratico ad esempio a Boiano cioè se si fa finta di nulla rispetto a questa a questa modalità proprio di essere ipocritamente ambivalenti non ci sarà spazio per costruire un'alternativa a frattura cioè il problema non è frattura persona fisica così come a suo tempo il problema non era Iorio persona fisica cioè il problema è capire se c'è un modo per fare meglio rispetto a come si è fatto come si è fatto da parte del governo regionale secondo me si può i cavalli di battaglia che a mio avviso che io sono impegnato con il movimento civico a cui aderisco insieme appunto ai sindaci e agli amministratori si basa su pochi capisaldi ma chiari cioè da un lato la tutela dei beni pubblici che non è uno slogan da campagna elettorale ma significa fare scelte concrete in materia sanitaria in materia sanitaria dobbiamo capire se esiste ancora la ragione per tutelare un servizio pubblico sanitario universale e gratuito io credo di sì esista questo non significa dover chiudere il privato accreditato questo significa che il privato accreditato fa il privato accreditato cioè il privato accreditato coprirà le inefficienze del pubblico non si sostituirà al pubblico per fare questo occorre che ci sia una programmazione dove a dare le carte non siano gli stessi soggetti che sono privatamente interessati perché sono titolari privati di aziende private che campano con la politica perché sono strutturalmente convenzionate col sistema sanitario e questo è un primo dato il secondo dato sull'acqua pubblica altro che chiacchiere sull'acqua pubblica va salvaguardata il profilo della gestione pubblica dell'acqua perché altrimenti ci ritroveremo i privati che se la gestiranno terzo c'è un problema che è clamoroso legato all'inquinamento c'è un problema clamoroso perché si continua a fare continua a non esserci registro dei tumori sono argomenti sui quali la politica non può continuare a parlare cioè tu devi insediarti e devi dire io in un mese faccio quello che non si è fatto in dieci anni se non lo faccio me ne vado a casa il problema costi della politica insomma il populismo lascia il tempo che trova se tu non dai un segnale in quella direzione abbiamo parlato del problema del precariato è chiaro che non si ricostruirà mai un rapporto di fiducia tra i cittadini e gli eletti se non si agisce in termini di ridimensionamento del privilegio legato alla politica però poi occorre anche un'autoriforma della politica nel senso che se si continuerà a dare la possibilità a gente che fino all'ultima notte sta con il governatore e poi la mattina si sveglia e fa pure la parte di quello che è contrario io penso che a risultarne inquinato è l'intero sistema politico lo dico perché mi ha molto colpito ancorché non si tratti di un fatto eccezionale la rapidità con la quale una serie di soggetti che sono stati con Renzi fino praticamente al giorno prima non appena Renzi è caduto in disgrazia con le vicende Consip non ci hanno pensato un attimo a prenderne le distanze da questo punto di vista credo che la politica ne tragga un diciamo un risultato negativo complessivo perché si fa leva sulla memoria corta degli elettori io credo che ci siano dei margini per costruire una coalizione sociale alternativa al governo regionale credo che sia uno snodo importante quello dell'area di crisi purtroppo registro il fatto che ad oggi la strategia della regione della giunta regionale è quella di commissariare di questo non abbiamo avuto modo di parlare mi auguro che capiterà tutti gli enti che sono espressione di una un principio democratico dal basso vale per i consorsi industriali vale per i consorsi di bonifica vale anche per altri enti moliseacque farà la stessa fine tra poco perché la regione li diciamo strozza perché non paga nel caso dei consorsi industriali non corrisponde le rette dovute nel caso dei consorsi di bonifica idem nel caso di moliseacque ci sono una serie di enti debitori nei confronti delle strutture ma rispetto a questi non si attivano i meccanismi di recupero delle partite si determinano cioè quelle condizioni per arrivare a smantellare gli organi democraticamente eletti mettere un commissario che risponde direttamente alla giunta regionale privatizzando ecco si è parlato di privatizzazioni la cosa più clamorosa che si è privatizzata in questa in questa legislatura è stato sono stati gli snodi pubblici della burocrazia cioè l'idea che il governatore abbia scelto come capo di gabinetto della giunta e come segretario generale del consiglio oltre che come componente di vari cda eccetera il proprio ex socio privato secondo me è un fatto che ci siamo un po' a suoi fatti a questo in realtà è un fatto che secondo me invece va rimarcato perché al di là della capacità professionale del soggetto in questione quando si crea un sodalizio che si basa non su proiezioni di interesse pubblico ma perlomeno nel passato si cementifica su un comune interesse privato su settori che peraltro dipendono dalla macchina amministrativa che si va poi ad amministrare dal punto di vista politico e dal punto di vista burocratico il cortocircuito è pericoloso per esempio la metropolitana leggera ma sulla metropolitana leggera io mi auguro che i cittadini capiscano che la metropolitana leggera diciamo costituisce mutatis mutandis quello che LTM è costituito per il governo regionale con una differenza però lo voglio dire LTM cioè la termoliget l'idea era vincente cioè l'idea di aprire il mercato l'apertura con il mercato dell'altra sponda dell'atriatico era un'idea geniale è stata realizzata male perché hanno sbagliato completamente la procedura l'idea della metropolitana leggera che collega matrice a San Massimo ma a chi risponde? cioè qual è l'idea che c'è dietro? l'idea di investire 23 milioni e mezzo di soldi pubblici per la metropolitana leggera matrice San Massimo cioè da questo punto di vista c'è uno scadimento e una involuzione anche della progettualità della politica che è far abbrividire poi adesso non la chiamano più metropolitana leggera perché hanno capito il boomerang e la chiamano a modernamento non so cosa ma anche lì bisognerà capire chi la gestirà perché se si tratta soltanto di intervenire sulla rete ferroviaria si può essere d'accordo perché si agevola il percorso e quindi però è un intervento infrastrutturale cioè significa che la dico volgarmente raddrizzi un paio di curve e ci può stare altro discorso è quello di creare come dice il progetto originario che peraltro lo studio di fattibilità lo fece proprio a suo tempo nei primi anni del 2000 proprio frattura come privato professionista era un sistema di mobilità veloce cioè non era raddrizziamo un paio di curve era mettiamo dei trenini veloci che ogni mezz'ora collegano matrici a San Massimo dopodichè io non so chi avrà esigenza quale utenza ci sarà per collegare matrici a San Massimo quindi questo è anche un caso che sarebbe opportuno spiegarlo però secondo me quello che resta sullo sfondo è proprio una idealità politica talmente di breve respiro da apparire soffocante bene adesso con Franco Spina riprendiamo e concludiamo anche con lui sempre sul tema del lavoro perché anche il sindacato avrà sicuramente delle aspettative rispetto al futuro chiaramente non chiederemo al sindacato cosa e chi auspica per un eventuale ricambio la situazione e questo il sindacato dialoga con tutti gli interlocutori istituzionali ma probabilmente chi arriverà si troverà a gestire due cose area di crisi complessa area di crisi non complessa abbiamo parlato della GAM lei ha detto c'è anche tutto il resto le chiedono sforzo di brevità però parliamo ecco a questo punto di questo resto proviamo proviamo a fare sintesi anche se è difficile perché ci sarebbe da dire tanto e anzi credo che necessiti un ulteriore approfondimento sul tema lavoro perché credo che non sfugga nessuno al di là del dibattito politico che si aprirà nelle prossime settimane che il tema cruciale o siamo in grado di ricreare le condizioni affinché in Molise riparte per davvero riparte solo se riparte il lavoro oppure non c'è partita che tenga faremo una discussione sterile faremo una discussione che ci porterà prima o poi a dire che o da soli o perché qualcuno deciderà questa è una regione destinata a scomparire punto quindi credo che il tema lavoro debba entrare a gamba tesa nella prossima tornata elettorale e debba diventare punto cruciale perché lo riteniamo perché essendo che in questi anni qualcuno ci ha raccontato che bisognava fare i sacrifici perché c'era un disastro e non nessuno nasconde che veniamo da una situazione complicata che bisognava fare i compiti a casa che bisognava fare dei sacrifici che c'era necessità di rimettere a posto i conti e quindi sulla sanità sull'egam abbiamo detto anche noi tante cose concordo perfettamente su quello che è stato detto c'era da rimettere ordine perché la regione non poteva più continuare ad essere imprenditore e nessuno ha mai sostenuto e continua a sostenere che per forza di cosa la regione deve fare imprenditore però a furia di mettere mano a una serie di questioni siamo arrivati che ormai la disoccupazione in questa regione vorrei che fosse chiaro al di là del dato ufficiale che è 14,3% più il 47% di quella giovanile tanto per intenderci siamo arrivati ormai al 50% di quella giovanile quindi significa che i giovani vanno via se prendiamo il riferimento del PIL negli ultimi dal 2008 al 2014 un meno 28,6% solo nel 2015 un più 2,9% legato a due attività dell'industria fiat tanto per capirci dell'agroalimentare però dobbiamo recuperare ancora un 16% fino al 18% dopodiché c'è un altro dato meno 13% di consumo cioè il consumo in questa regione è calato del 13% in quello stesso periodo in più abbiamo un altro dato che purtroppo la nostra popolazione è sempre più anziana e mancano completamente quelle politiche a sostegno del welfare e soprattutto alla persona quindi o c'è un ridisegno complessivo che riparte attraverso una programmazione complessiva l'area di crisi complessa l'area di crisi semplice il discorso dell'infrastruttura cioè non possiamo assistere che ad esempio per il discorso del casello di Emiliano Montelung 50 milioni di euro per una strada che probabilmente non si realizzerà perché ci serviranno 200 milioni per quella realizzazione essendo che non ci sono 200 milioni sarà un'altra di quelle opere io mi auguro di sbagliare con tutto il cuore ma un'altra di quelle opere che servirà solo a fare progettazioni e non ricaduto occupazionale qui c'è bisogno invece di rimettere in piedi immediatamente le attività nel campo ad esempio dell'edilizia e quindi quelle che possono essere canterizzabili vanno immediatamente spese quelle risorse quindi non continuare a fare programmi che siamo ormai in fase di partenza sono due anni che parliamo della riprogrammazione dei fondi dell'ex autostrada però quant'è che partiamo in Molise sta franando sugli interventi infrastrutturali c'è praticamente nulla c'è bisogno quindi di ridisegnare tra i fondi dell'area di crisi complessa quelle dell'area di crisi ordinaria i fondi per il patto per il sud più dell'infrastruttura e tutta la programmazione comunitaria a cui questo sì che il governo regionale deve però aggiungere qualcosa sono stati sottratti 142 milioni al Molise così come sono stati sottratti alla Sardegna e all'Abruzzo però mentre la Sardegna e l'Abruzzo non i sindacati le regioni in testa stanno chiedendo e confrontandosi con il governo nazionale affinché scuciano qualche soldino perché di competenza di quelle regioni noi siamo a non dover disturbare Roma perché non sappiamo ci avevano detto promesso 52 milioni ed è chiaro che se 52 milioni le immettiamo come energia fresca dentro questa situazione di crisi possiamo programmare qualcosa di positivo il dramma è e quindi qui chiudo perché di lavoratori di casistiche di situazioni tra le partecipate vorrei ricordare tra l'altro la legge regionale sul turismo tanto ne parliamo la legge regionale ancora non approdi in commissione sono anni che tutti qui parlano di turismo ma se è una legge non riesce nemmeno ad arrivare in commissione ma possiamo pensare che c'è una programmazione a monte che la regione fa appostando le risorse che nessuno mai spenderà però abbiamo consigliere delegato gli appalti pubblici è un anno che siamo di fronte alla situazione di dire prima che partano gli appalti pubblici dove sappiamo che c'è qualche difficoltà anche di carattere voglio dire diciamo insomma legale diciamo di legalità no c'è un protocollo che noi abbiamo sottoposto alla regione quindi propositivo rispetto all'attivazione di un processo che deve essere anche di trasparenza almeno ci proviamo è un anno che già c'è lì che nessuno ci convoca cioè ci sono delle cose che hanno rigadute dirette immediate sul mondo del lavoro a partire appunto dalle infrastrutture alla programmazione dei fondi comunitari che non possiamo rinviare per esigenze probabilmente anche elettoralistici agli ultimi giorni del 2017 non ce lo possiamo permettere quando noi ci irritiamo nei confronti di questo atteggiamento è perché fuori dalle mure di palazzo della regione Molise insomma ma di tutti i palazzi delle istituzioni quindi anche dei comuni perché anche i sindaci dovrebbero battere ogni tanto qualche colpo c'è una crisi che fa paura forse o viviamo noi altrove oppure qui non si riesce a capire che quel poco che c'è va immediatamente messo direttamente in produzione poi ci possiamo litigare e scontrare sulla filosofia di vita ma nel mentre al cittadino comune al lavoratore al disoccupato al giovane dobbiamo dare al pensionato non possiamo continuare con una politica che mira esclusivamente al mantenimento dello status quo o a interessi di parte non è più accettabile questo è quello che il messaggio che abbiamo voluto mandare in passato continueremo a fare e nelle prossime settimane non lento dolento essendo che questo è il tema cruciale cioè quello del lavoro e della difesa del diritto dei cittadini ci ritroveremo di nuovo davanti al palazzo della regione però questa volta non sarà solo la GAM o solo l'ITR le vertenze saranno unificate qui c'è bisogno di una vertenza molise perché purtroppo ci sono tante criticità tante troppe tra l'altro parliamo spesso di vertenze di aziende grosse ma non dimichiamoci il commercio le piccole attività i tanti lavoratori che sono purtroppo figli di NN poiché non hanno alle spalle una grande azienda dico loro non si parla più di costoro però è chiaro che sono anche loro persone che devono trovare la giusta dimensione non si parla più della mobilità in questa regione e sappiamo quello che è successo anche sui tagli regionali e quello che sta avvenendo non si parla più di diritti costituzionali scuola sanità e mobilità sono profondamente messi in crisi vogliamo ripartire da questi capisaldi io mi auguro che la prossima campagna elettorale venga diciamo parta da questi presupposti venga incentrata su questi presupposti e soprattutto che si riparta una discussione vera che rimetta al centro il lavoro la possibilità in questa regione di ricreare le condizioni affinché ci possiamo tutti noi vantare di essere molisani grazie Franco Spina davvero per questa come dire testimonianza e questa disamina i nostri monitor portano la scritta il Molise non esiste in parte è vero il Molise è stato cancellato dalla politica però c'è un Molise eh buono che esiste che vive e che si è rimboccato le mani che la testimonianza questa sera del sindacato sicuramente ci mostra come qualcosa poi dietro a questa gigantesca cataratta si stia muovendo Antonio D'Ambrosio domenica scorsa l'inserto del Corriere della Sera la lettura proponeva un un articolo interessantissimo a doppia pagina sull'AIEP cioè sull'indice di felicità che è stato eh registrato con metodo scientifico provincia per provincia lungo l'arco di tutte le 24 ore e c'è un raffronto molto interessante tra Campobasso e Bologna con come dire la gradazione rossa in quell'indice viene indicato il momento di felicità con quella viola invece quello insomma di tristezza di infelicità chiamiamolo così per per semplificare che cosa ne viene fuori che a Bologna nella provincia di Bologna si è felici semplifico molto chiaramente dalle 7 del mattino fino alle 23 poi probabilmente vanno a dormire in provincia di Campobasso e tutto quest'arco di tempo è tutto viola ora perché ho fatto questo discorso sull'umore effettivo della popolazione quindi anche su un diritto perché esiste anche un diritto alla felicità incide sicuramente quello che si vive quotidianamente da uno scenario così negativo come lo abbiamo individuato e tracciato stasera ma anche nelle sere precedenti mi sembra che ci sia una chiave di lettura forse però questo popolo merita qualcosa di meglio ho visto la rappresentazione della felicità grafica dove noi ci siamo confrontati a Bologna tra l'altro tu hai vissuto in quella realtà come Massimo non c'è non c'è hai studiato la Bologna bravo capisco tante cose di questo ragazzo io credo che la felicità lo fa il lavoro la felicità vera la possibilità di avere un reddito di poter costruire una famiglia di poter cimentarsi con le opportunità della vita che passa attraverso una stabilizzazione del lavoro di una stabilizzazione sociale questo cimentarsi fa crescere io ho pensato subito a questo sotto anche se frettolosamente insomma della differenzazione e quindi la mattina quando ti svegli c'è ancora qualcuno che si fa la barba e tutto sommato è contento di andare a lavorare è contento di cimentarsi dentro a quel posto di lavoro qualsiasi lavoro faccio o lavora alla CAMS o nelle cooperative sociali o lavora in una banca o lavora in un istituto ovunque di cimentarsi giorno per giorno e assaporare la vita e costruire il proprio futuro per sé per i propri figli pur dentro una crisi europea italiana europea da noi invece questo non accade la parte più scoraggiante è dalla mattina alle sette quando un giovane si deve alzare quando un familiare non sa come risolvere il problema dell'occupazione del figlio del nipote e la felicità scompare torna un po' la sera a una certa ora dove da noi si è presa un'abitudine i giovani quelli più giovani di uscire di sera e trovare delle opportunità con gli amici nei locali questo lo si registra e si vede però è effimero è proprio artificiale che è di un momento dove si consumano risorse spesso non proprie ma del risparmio della famiglia del nonno e fino a quando questo sistema regge ma poi nascono i problemi come diceva Franco di ordine sociale gravi che forse sarebbe opportuno mettere mano ed è stata una visione oggettivamente che deve far riflettere chi governa come abbiamo detto abbiamo criticato abbiamo come dire quello che vuoi però dietro alle nostre critiche ci sono le persone nel senso che ci interessiamo delle persone io non capisco perché il metodo non è stato imposto forse non erano abituati questa alla democrazia noi cioè la concertazione Franco ci ha dato un esempio di un'opportunità no? di crescita tutti insieme il sindacato invece è diventato marginale per l'istituzione e serve solo quando le leggi prevedono la loro presenza ma per comparsa non perché sia un soggetto che ha la conoscenza e che abbia un ruolo nella società faccio questo esempio per capire e tornare al mio ragionamento è il modello che è stato costruito che è stato sbagliato vediamo adesso ci siamo un po' Frattur Frattur Zelig Woody Allen eccetera vabbè ci siamo io penso che sta tutto lì e in quel medio Massimo facciamo un altro esempio che mi facevi riflettere hanno commissariato tutti gli enti io dico anche la stragranda maggioranza dei comuni te lo dico anche perché l'hanno commissariato promettendo posti di lavoro ai sindaci ai loro familiari con liste con liste cioè quelli sono commissariamente sublimati nell'amministrazione comanda veramente una persona sola è la verità ed è un errore perché io penso che allargare la democrazia è allargare la sfera del potere agli altri alla compartecipazione invece c'è un egoismo di fatto che riduce spazi di democrazia attraverso il quale si concentra nelle proprie mani il potere due sole cose o si nasconde qualcosa o è un'insufficienza culturale che ha prodotto ha prodotto danni quasi irreparabili per questa comunità regionale questo io batterei molto su questo aspetto che tu metti il tuo suocio che metti tre persone condizionabili attorno a te che poi metti una pletora di persone che sono condizionate dallo stipendio che gli stai dando elimini il ruolo istituzionale dei dipendenti pubblici elimini i processi di democrazia all'interno degli enti subregionali o degli enti finanziari cioè elimini tutto il processo di costruzione democrazia perché è fastidioso e allora sei debole perché puoi cadere in un errore irreversibile innanzitutto e poi non auguriamo a nessuno ma oggettivamente puoi cadere in un errore perché ti dicono tutti quando sei bello quando sei bravo e poi appena cadi si risistemono è massimo subito a correre a riposizionarsi l'effetto Renzi a riposizionarsi però si sono prodotti danni anche sul piano come dire legale insomma caduto in discrazia Renzi improvvisamente sono partite tutte le inchieste ma se vediamo oggi in Italia c'è un riassestamento di gruppi di potere in 48 ore proprio un riassestamento di gruppi di potere che osannavano Renzi è che oggi si sono riposizionati ma non sono soltanto i deputati o questi personaggi che è opportunista è tutto un sottomosto ci sono le grandi come dire le grandi finanze ci sono la grande informazione sta ridisegnando un quadro di nuovi poteri dove collocare in 48 ore in 48 ore ora noi ci troviamo quindi disarmati perché c'è la c'è tabula ras c'è un deserto attorno alle risorse della nostra regione che sono innanzitutto umane e del preservare perché anche qui Franco ha ragione noi diciamo staremo attenti al programma delle persone e sperando che poi si porterà avanti perché anche qui crede che serva uno strumento di controllo del programma per la campagna elettorale c'è un nucleo indipendente che l'assenza di partite possa come dire garantire che quel programma venga attuato se questo è l'ipotesi di lavoro ma il problema come si diceva prima il problema è di stabilire un'idea un'idea ma non per tutelare solo e prettamente i confini geografichi di questa regione perché quell'idea serve e ha bisogno per quelli uomini donne giovani che hanno devono avere un'opportunità per tornare a quella felicità altrimenti il deserto è storico di una responsabilità grave che peserà gli attuali governanti per tutta la loro vita e l'appello va sempre agli elettori ai cittadini molisani le chiacchiere morte non vanno storie pensate ai vostri figli e al futuro dei vostri figli bene si chiude anche questa sera millibar di cosa abbiamo parlato insieme ai nostri ospiti che ringrazio Massimo Romano di Coscienza Civica Franco Spina della CGL e il compagno dei viaggi Antonio D'Ambrosio abbiamo parlato di questa regione partendo da questa diatriba il Molise esiste il Molise non esiste noi abbiamo parlato di un Molise che non esiste ma in quanto un Molise distrutto distrutto sul piano della sanità sul piano delle infrastrutture sul piano del lavoro abbiamo parlato anche di scenari ipotetici futuri Antonio D'Ambrosio ha detto i molisani hanno già scelto come votare lasciando così capire che c'è a questo punto un antagonismo maturo all'attuale governo regionale però ci sono dei limiti organizzativi ci sono delle grandi attese da parte del sindacato per il futuro partirà l'area di crisi complessa quella semplice ci sono sullo sfondo crisi industriali inenarrabili che hanno veramente messo faccia a terra le persone sarà difficile però una luce va mantenuta accesa noi qui a Millibar come dire cerchiamo di rappresentare la situazione per quella che essa è ma tuttavia senza fare del catastrofismo e lasciando comunque aperta una finestra ritorneremo come al solito puntuali mercoledì prossimo su Telemolise alle ore 21 e in replica il giovedì qualcuno ci ha scritto chiedendoci quali sono gli autori delle nostre sigle delle nostre sigle abbiamo fatto una copertina con la musica dei Pink Floyd la nostra sigla iniziale è Roll On la sigla finale è ritratto di Donna Velata un pezzo di Rizzo Ortolani che risale oramai agli anni agli anni 70 ecco con la sigla finale che tra qualche secondo partirà da Termoli da me buonanotte e buona fortuna è anche un auguri alla festa della donna è un auguri alla festa della donna visto che chiaramente oggi il giorno della nostra eh messa in onda ricorre questa eh festa che però diciamo non deve essere la festa di un giorno perché la festa della donna è bene che sia tutto l'anno auguri alle nostre telespettatrici che piacciono di un ring al di un ring che ci fosse anche con la mia luce di uno di un ring di due di un ring che risposto di un ring di un ring di due